vivevano in fondo al villaggio uno dei più forti e pittoreschi villaggi delle montagne del lago d'oro anzi la loro casetta nera e piccina era proprio l'ultima e guardava giù per le chine coperte di cinestre e di lentischi a grandi macchie filando ritta sulla porta Saveria vedeva il mare in lontananza nell'estremo orizzonte confuso col cielo di platino in estate nebbioso in inverno cucendo presso la finestra scorzeva un'immensità di vallate stendersi ai piedi delle sue montagne e sentiva il caldo profumo delle messi d'oro ondeggianti al sole e il sussulto del torrente che scorreva fra le rozze e i roveti montani in quella casa piccina e nera col tetto coperto di musco giallo e rossastro ombreggiata da un vecchio pergolato fra tanta festa di ciali azzurri ed immensi orizzonti silenziosi da due anni Saveria scorreva la vita più felice che si possa immaginare accanto al suo giovane sposo dai grandi occhi ardenti e le labbra rosse come i frutti delle eliche fra cui conduceva i suoi armenti la sua sola ricchezza si chiamava Antonio anch'esso da chi aveva sposato la piccola signora dei suoi sogni da pastore viveva felicissimo però una leggera nuvola era apparsa dopo due anni di completa felicità sul cielo sereno della sua esistenza Saveria non lo aveva reso né ancora accennava a renderlo padre era una cosa ben triste egli l'aveva tanto sognato un bel marmocchio bruno come lui che appena in gambe l'avrebbe seguito su e giù fra i boschi e le valli aiutandolo nelle dure fatiche di pastore un marmocchio che poi fatto forte giovanotto la gioia e la speranza dei suoi vecchi ammogliandosi avrebbe a sua volta tramandato il loro nome e la discendenza degli orrormenti in un altro e così via per i secoli dei secoli tutti gli avi di Antonio erano stati pastori e questa gloria egli sognava di continuarla ma come fare se non veniva l'erede tutto fu messo in opera promesse novene pellegrinaggi Antonio andò scalzo e a testa nuda a piedi sino al celebre santuario della Madonna dei Miracoli a bitti fece fare una processione una messa solenne e promise di dare tante libri di sera lavorata alla Madonna quante ne avrebbe pesate il suo futuro figliolino ma tutto fu inutile Saveria restava sottile e sottile elegante nel suo costume dal corsetto giallo e la camicia ricamata e la casa non veniva ancora rallegrata dagli strilli del sognato bambino né dalla nenea della mamma accompagnata dal cigolio della culla era una ben triste triste cosa se ne aveva già deposta l'ultima speranza allorché un giorno un'amica di Saveria venne a trovarla e le disse con profondo mistero dopo i primi complimenti alla francese non sapete dunque comare sabè Peppe Longu mi ha detto che voi non fate figli perché perché chiese attenta a Saveria con gli occhi sparancati perché seguitò l'altra abbassando la voce ci scampi Dio ma voi lo sapete Peppe è un mago di prima qualità così almeno dicono tutti e lui stesso mi ha detto che è per opera di una sua magia che voi non avete figli libera Nostomine esclamò Saveria ridendo e facendosi il segno della croce come tutte le donnicciole del villaggio essa era superstiziosa e credeva alle magie anzi una volta aveva visto coi suoi propri occhi un fantasma bianco vagare per i monti ma che poi Peppe Longu per quanto fosse magro arrivasse a quel punto questo era troppo ma l'altra proseguì offesa dell'incredulità di Saveria e tanto disse che finì per convincerla dopo un'ora di chiacchiere accanto al focolare sulle cui braccia Saveria aveva posto a bollire il caffè ella era così convinta della magia di Peppe che chiese pensosa alla comare e ditemi non la potrebbe disfare quest'opera infernale questo poi no mi ha detto questo no pare che abbia dell'astio contro vostro marito all'imbrunire Antonio comparve in fondo alla strada rocciosa col suo cavallino nero e la bisaccia gonfia di formaggio fresco e di ricotta mentre scaricava la sua entrata sotto il pergolato Saveria lo informò di tutto egli non guise punto ma aggrottando le folte sopracciglia si contentò di scuotere la testa e quando tutto fu rimesso in ordine cavallo bisaccia ed entrata Antonio si sedette a piedi in croce accanto al focolare e si fece ripetere la strana novità ma che diavolo avete con Peppe perché si vendica così orribilmente domandò alla fine Saveria con grande serietà nulla rispose Antonio a meno che non sia perché mi rido sempre delle sue magie è male non hai visto come ha disperso le cavallette che rovinavano la vigna di Don Giovanni e quelle di Yolgiluppeddu è vero è vero ma vedremo domani gli parlerò ah se sciogliesse la magia esclamò Saveria quella notte i due sposi sognarono nuovamente un bel bambino Bruno ma l'indomani per quante preghiere Antonio gli facesse il mago del villaggio ricusò assolutamente di disfare l'incantesimo era un tipo alquanto misterioso quel mago viveva come tutti gli altri uomini del mondo però non lavorava mai è vero che oltre le magie pubbliche di cui menava vanto come l'uccidere le cavallette e il sanare le pecore malate con semplici parole misteriose per cui non accettava compenso alcuno egli riceveva molte visite notturne però nessuno ci badava e generalmente si credeva che i geni che gli aveva al suo comando gli dessero il denaro le provviste che abbondavano nella sua catapecchia ma forse Antonio la pensava diversamente perché viste mal riuscite tutte le sue preghiere e anche le sue minazze si recò una notte da Peppe e gli promise un bel Luigi d'oro purché sciogliesse finalmente la fatale magia sulle prime Peppe fece il sordo si mostrò anzi scandalizzato come un artista a cui si proponga un affare che spoetizzi i suoi ideali ma poi visto realmente lo splendore del Luigi chissà dove il pastore lo aveva tratto cedea poco a poco e gridò ebbene sì lo faccio però per amicizia e pietà di Saveria ma tu non lo meriti tu che mi hai sempre deriso Antonio protestò Peppe allora l'avvertì di trovarsi l'indomani notte in un sito deserto della montagna col fucile scarico una tovaglia bianca e due ceri Antonio lasciò la moneta al mago e promise tutto però allorché trovossi nella strada oscura minacciò col pugno la casa rovinata da cui era uscito e sogghignò vedremo l'indomani notte fu il primo ad arrivare al convegno era un sito orrido e dirupato reso fantastico dal chiorore croceo della luna al tramonto nella notte serena non spirava un alito di brezza e i rovi fioriti le liane nere e il musco olezzavano nel silenzio misterioso delle rocce illuminate dalla luna il pastore depose il fucile che secondo la raccomandazione di Peppe non aveva caricato la tovaglia e i ceri su un masso e attese Peppe non tardò le sue prime parole furono è giusta l'ora mezzanotte stese la tovaglia su una larga pietra nuda e isolata dalle altre fissò i ceri in terra e fece stendere bocconi per un secondo il pastore quando si rialzò Antonio vide i ceri accesi e il fucile posto sulla tovaglia cominciamo disse Peppe e infatti cominciò a fare mille pantomime che Antonio seguiva con occhio torvo e un sorriso di sdegno sulle labbra più che mai si sentiva in vena di deridere il mago ma qual non fu il suo spavento quando Peppe rivoltosi alla pietra coperta dalla tovaglia la interrogò in un linguaggio strano che probabilmente doveva passare per latino e la pietra rispose con voce flebile lugubre uscente di terra nel medesimo linguaggio in pari tempo i ceri si spensero da sé senza che tirasse vento o che Peppe si chinasse su di essi si rivolse invece verso il pastore che tremava verga a verga e gli disse la pietra mi risponde che il fucile risponderà se la magia si è sciolta o no come disse Antonio richiamato in sé dalla voce del mago era scarico il tuo fucile si per dio esclamò il pastore ebbene piglialo e spara in aria se fa fuoco è segno che l'incantesimo è sciolto Antonio ormai preparato ad assistere a tutte le meraviglie del mondo ma non a quest'ultima si accostò alla pietra parlante prese il fucile e sparò Peppe cadde al suolo senza emettere un solo gemito col cuore trapassato da una palla invece di sparare in aria Antonio lo aveva preso di mira dopo il suo involontario delitto perché nonostante tutto credeva che il fucile non facesse fuoco il pastore pensò di darsela a gambe ma poi riflettè che nessuno sapeva nulla di tutta questa faccenda ripiegò la tovaglia ripresi i ceri e il fucile e ritornò al villaggio camminando sulle rupi in modo da non lasciare alcuna traccia dietro di sé e passò tranquillamente il resto della notte con la sua adorata Saveria sempre incredulo in fatto di magie il forte pastore dai grandi occhi ardenti non seppe mai spiegarsi come la pietra avesse parlato come i ceri erano si spenti e come il fucile aveva fatto fuoco però nove mesi dopo ebbe la gioia di pigliare fra le sue braccia robuste un bel marmocchio di cui Saveria lo rese padre allora si pentì amaramente di non aver sparato in aria ma non potendo far rivivere il mago si contentò di fargli dire una messa di suffragio nella vecchia chiesetta di montagna di marmocchio di marmocchio Grazie a tutti.